Una distesa di campagna, una casa rurale, ad immaginarlo oggi sembra strano ma per chi lo ha visto con i propri occhi questo era il quartiere Carrassi più di 50 anni fa e a conservare il ricordo è Vito, classe 1931, da molti considerato la memoria storica di Parco 2 Giugno. Qui abitavo io, qua, la vecchia casa rurale, con le finestre al primo piano. La sua famiglia era proprietaria di una parte di quei terreni. Al fianco della sua mamma Vito si occupava di curare uno degli orti che sorgevano proprio qui. Nel frattempo studiava per diventare geometra. Quando ero ragazzo, io, 1940, era completamente campagna, campagna, campagna. A vista d'occhio bisognava andare a 300, 400 metri verso il centro di Carrassi e altro. Corso al Cide De Gasperi era la via provinciale che portava a quella che all'epoca era una frazione carbonara. E per muoversi si usava soprattutto il tram. Dunque il marcio a piedi, non la strada, di questa via di carbonara correva la linea dei binari del tram. I binari del tram che sono stati tolti il 1951. Per chi custodisce il ricordo di ciò che era ieri il pensiero del luogo, che oggi non può lasciare indifferente. Ed è questo forse il dispiacere più grande nel cuore di Vito. L'amministrazione comunale pecca in una cosa. Questo parco doveva essere più disciplinato. Bisognava evitare categoricamente che a un certo punto il parco venisse calpestato. e lo che aveva tongue che diventa. E quindi le pride che sta radion connaiss Round 2, le parco venisse calpitani. Grazie.